Allora, buongiorno, abbiamo il piacere di avere con noi Anna Gerometta e Damiano e con loro vorremmo in qualche modo analizzare questa situazione nuova che abbiamo di fronte e quindi capire come il virus che così velocemente ha cambiato le nostre vite in qualche modo è già legato ai cambiamenti climatici e in particolare all'inquinamento dell'aria, quindi magari Anna che è la Presidente dei Cittadini per l'aria saprà dirci in qualche modo la relazione tra inquinamento e salute e invece Damiano che è un attivista del clima e fa parte del Dipartimento di Fisica potrà dirci come i giovani vivono i cambiamenti climatici e questo stop. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Allora, io vi posso raccontare un po' in quale misura si sta collegando e per quale motivo in questo momento si sta collegando il problema del coronavirus scoppiato a febbraio, fine febbraio con l'inquinamento atmosferico. Allora, l'inquinamento atmosferico è, lo sapete tutti, un insieme di sostanze, cioè avviene il risultato della produzione da parte umana, perché non è altro, di una serie di sostanze che si disperdono nell'aria facendo sì che la qualità della nostra aria venga molto peggiorata da queste sostanze che possono essere gas, può essere particolato e che naturalmente vengono poi assorbite dal nostro corpo sotto, in vario modo, perché non solo prevalentemente attraverso la respirazione, ma anche attraverso, come recentemente si sta studiando attraverso i nervi olfattivi che conducono direttamente al cervello e quindi la gravità, diciamo, dell'inquinamento atmosferico è particolarmente, diciamo, seria perché determina effetti molto gravi sulla nostra salute, tanto che poco più di sei mesi fa un gruppo internazionale di ricercatori ha fatto una bella, diciamo, meta-analisi descrivendo il fatto che non c'è organo umano che non venga danneggiato dalla cattiva qualità dell'aria. Il primo, diciamo, motivo per cui si ricollegano l'inquinamento atmosferico al coronavirus è perché ci sono stati degli studi in Cina che hanno evidenziato come ci fosse un incremento di infezioni nelle zone dove c'erano livelli di inquinamento più elevati e questo è stato ricondotto principalmente a due motivi. Uno, diciamo, alla suscettibilità della popolazione di quelle zone che normalmente si ritrova ad avere situazioni, per esempio, dell'apparato respiratorio precario, sentite? Sì, sento un po'. E quindi una situazione di irritazione delle mucose, per esempio, già, che effettivamente può, determinare una maggiore facilità del virus di attaccare l'organismo. Inoltre c'è un elemento, diciamo, aggiuntivo che riguarda più i chimici e i fisici che non gli epidemiologi e cioè il fatto che secondo alcuni gruppi di ricercatori cinesi c'è stata, c'è evidenza del fatto che l'aria sporca, e quindi il particolato fa da portatore sostanzialmente del virus, cioè dove l'aria è più densa di particolato, il virus si aggrapperebbe al particolato e diciamo rimarrebbe in atmosfera più più numeroso e più denso. Sono naturalmente questi, in particolare, ancora studi che riguardano, non nello specifico, il coronavirus, ma siccome la Lombardia in particolare, la pianura padana, ha una qualità dell'aria pessima, assolutamente pessima, siccome abbiamo avuto una qualità dell'aria a dicembre e a gennaio assolutamente peggiore che pessima, perché erano anni che non avevamo concentrazioni così elevate di ossidi di azoto e di particolato, è verosimile che il virus si sia diffuso in modo più virulento di quanto non avrebbe fatto, per essere incappato in una popolazione che oltre a essere, oltre a tutte le altre ragioni di cui si è detto, gli anziani e cose, però comunque sia in una popolazione che era particolarmente capace di ricevere questo virus, perché aveva un organismo già irritato e quindi più debole nella reazione. Ci sono oltretutto anche studi molto recenti che indicano come la maggiore suscettibilità dei virus delle persone che vivono in aree inquinate e quindi in sostanza questo porterebbe a concludere che ci può, è verosimile effettivamente che ci sia stata una influenza in questo scoppio lombardo della nostra qualità dell'aria. Se provate a guardare sull'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito, le foto della stessa webcam a gennaio, febbraio e marzo di Milano, è impressionante vedere il colore dell'aria di gennaio, è uno schermo grigio, non si vede assolutamente niente e quindi è potenzialmente verosimile che il virus sia stato anche in qualche modo sorretto dall'inquinamento molto denso e con concentrazioni elevatissime che abbiamo avuto in quel periodo. Poi naturalmente noi non siamo né medici né ricercatori, quindi lasciamo ai medici, ai ricercatori, agli epidemiologi di fare, tirare le conclusioni finali, considerate però che su questo ormai sta scrivendo moltissimi studiosi, sono usciti dichiarazioni della società americana dei pneumologi e di varie istituzioni accreditate o comunque soggetti molto accreditati a livello internazionale che sollevano la raccomandazione, addirittura pochi giorni fa appunto la società dei pneumologi americani ha proprio evidenziato come proprio in questo momento, come invito agli americani e quindi fosse importante ridurre l'inquinamento atmosferico per evitare che la popolazione americana fosse più soggetta al virus, fosse più vulnerabile al virus, quindi dando come assodato in sostanza il collegamento fra la maggior diffusione del virus e la qualità dell'aria. E quindi diciamo noi come cittadini per l'aria, avendo una battaglia alle spalle e non alle spalle ma in corso con la regione Lombardia in particolare sul tema della pianificazione dell'aria, crediamo che ci sia una responsabilità perché il fatto che gli amministratori in questi anni non abbiano fatto quello che avrebbero potuto e dovuto fare per proteggere la salute dei cittadini lombardi a questo punto è diventato anche causa scatenante di un danno ancora maggiore e che si aggiunge a quello dell'inquinamento atmosferico. Considerate che secondo lo studio Vias, che è uno studio fatto nel 2015 dai migliori ricercatori italiani su questo tema, l'Italia ha circa un terzo della mortalità italiana che sulla base dei dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente sono circa 60 mila ma insomma se ogni anno si verifica in Lombardia perché la Lombardia ha un… quindi noi come popolazione Lombardia subiamo sostanzialmente un terzo del danno complessivo nazionale, quindi la diciamo gravità della ignavia degli amministratori che non hanno in questi anni pianificato quelle misure che andavano pianificate credo che sia come dire sia dal punto di vista sanitario, ambientale e climatico veramente gravissima. Noi abbiamo una causa pendente oggi nei confronti della… anzi ne abbiamo due nei confronti della regioni della regione Lombardia, la prima con la quale abbiamo impugnato l'aggiornamento del piano della qualità dell'aria che peraltro avevamo diciamo attivato noi con un precedente ricorso nel 2017, però purtroppo questo aggiornamento non è sufficiente quindi abbiamo impugnato il piano della qualità dell'aria, adesso siamo in Consiglio di Stato e quindi insomma crediamo molto nel fatto che questo sia un elemento davvero centrale, la pianificazione, l'attuazione delle misure è davvero un elemento cruciale per la salute della popolazione Lombarda, vorrei aggiungere che l'anno scorso mi pare che l'assessore Cattaneo abbia detto in conferenza stampa che per risanare la qualità dell'aria in Lombardia ci sarebbe voluto credo un miliardo e due, direi che con quello che è successo quest'anno forse se avessero spesi considerando il budget della regione Lombardia che è una delle regioni più ricche d'Europa sarebbe stata un ottimo investimento, avrebbero risparmiato probabilmente tantissime vite umane e quindi è veramente una grave responsabilità a carico di questi amministratori e ci auguriamo che questo disgraziato esperimento al quale siamo costretti a partecipare di riduzione massiccia delle emissioni indichi anche alle persone sia come comportarsi d'ora in poi per continuare effettivamente a ridurre il più possibile con la ripresa e quindi le emissioni che noi produciamo e allo stesso tempo di votare bene è di chiedere amministratori veramente ambiziosi e decisi e coraggiosi e con una visione che non sia alla prossimo turno elettorale non so se Mariangela hai altre domande se pensi che grazie mille perché comunque ci ha riportato anche un'esperienza che abbraccia un po' di anni e quindi fa capire che questa emergenza in realtà in qualche modo era già studiata e si voleva già evitare di arrivare a questo. Ci sarebbero mille parentesi da dire anche del fatto che comunque alcune attività produttive sono state interrotte tardi perché comunque la questione economica non va sottovalutata però come dire oggi tra i mille pensieri che questa situazione ci porta a fare ogni giorno ci limitiamo all'inquinamento sono ovviamente anch'io concorde sul fatto che a queste misure di prevenzione sarebbero state bisognava prenderle insomma già prima però vediamo insomma infatti dici bene questo è un esperimento è sicuramente un esperimento che ha ricadute sociali e quindi adesso vorrei chiedere a te Damiano se quali sono secondo te i prossimi passi che si possono fare quindi in qualche modo quale ricaduta anche psicologica avrà questo stop delle attività sociali in tutta la popolazione in particolare nei giovani e in particolare in voi che siete attivisti per sensibilizzare sui cambiamenti climatici già da tempo quindi secondo te come cambierà l'approccio alla questione climatica da prima a dopo? ciao Maria Angela ciao a tutti sono Damiano di tempo zero del dipartimento di fisica di Milano e siamo un collettivo ambientalista che che si occupa di di attività tipo questa intervista piacere di essere qui con voi allora domanda che poni è molto interessante in particolare alla fine in cui hai parlato di di un confronto diciamo a livello psicologico fra le reazioni della delle persone al problema del coronavirus e a quello dei cambiamenti climatici quindi prima provo a rispondere alla prima parte della tua domanda e poi passo a questa analogia fra i due problemi le cadute psicologiche di questa crisi di adesso ho le idee confuse come tutti e qualche qualche speranza qualche dubbio e diciamo che nella scienza nella psicologia sa ancora prevedere cose così difficili ma ma c'è in particolare la speranza che che sì come si dice questo periodo sia sia un lasci un lasci una traccia e ci insegna a reagire più in fretta e più efficacemente ai problemi e ci faccia capire che non abbiamo proprio tutto il nostro pugno è questo ciò che sento che sento dire in giro la la speranza di chi sa che che l'umanità dei passi da fare per arrivare a a un modo di stare su questo pianeta più sostenibile e in particolare proprio ieri ho ascoltato un podcast climate engage di di un mio amico che di solito si occupa di clima ma che in questa circostanza ha fatto un podcast anche lui sul sul coronavirus un po paragonato ai cambiamenti climatici e in questo podcast un suo amico diceva che di tutti gli avvertimenti che potevamo che potevamo dover affrontare per poi riuscire a imparare la lezione affrontare efficacemente i cambiamenti climatici questo viene anche a un prezzo non troppo salato diceva questa cosa interessante e ovviamente lascia un po discutere perché il prezzo comunque salatissimo in termini assoluti devo dire che il fatto di dover stare a casa davvero può lasciare impatti psicologici pesanti per i nuovi modi di fare di vivere tipo in termini concreti imparare a lavorare da casa che sarebbe una cosa utilissima anche per evitare minimamente inutili macchie che si spostano per niente eccetera eccetera a livello psicologico sì spero che che lasci lasci un'impronta ma è solo una speranza e non ho nessuna valida previsione sull'argomento invece è interessante paragonare le reazioni delle persone dell'umanità a questo problema con quelle al problema dei cambiamenti climatici e in particolare la analogia sta nel fatto che in entrambi i casi ci si muove in ritardo per affrontare il problema e poi a posteriori si dice cavolo siamo siamo stati proprio ciechi con i cambiamenti climatici siamo ancora a metà del processo e arriveremo alla consapevolezza di essere in ritardo più tardi cioè chi ci è già arrivato chi non ci è ancora arrivato mentre con il coronavirus siamo in una fase relativamente più avanzata rispetto a quella con cui siamo nei cambiamenti climatici oggi la differenza da rilevare fra i due problemi ovviamente è quella di scala temporale si dipana in settimane o mesi la crisi del coronavirus si dipana nell'arco di secoli la crisi dei cambiamenti climatici quella del coronavirus finirà dopo qualche anno e come dicevo prima ci permetterà di avere di avere un esempio di di come reagiamo di cosa sbagliamo nell'affrontare i problemi di questa portata potrebbe essere una lezione validissima per i cambiamenti climatici vedremo se lo sarà quali è che sono le reazioni del dell'umanità e delle persone appunto si reagisce in ritardo abbiamo visto che tutti gli stati prendevano misure le misure corrette per contenere il coronavirus solo quando arrivava arrivava dentro ai loro confini e iniziava a far vedere i propri danni e anche a livello personale anzi ancora di più la gente segue il proprio istinto molto più che le previsioni scientifiche e questo problema entra nel loro cuore solo quando davvero gli arriva sotto casa a me stesso questa cosa è arrivata alla testa da tempo forse da un mese cioè da fine febbraio e al cuore no è arrivata due settimane dopo ho dovuto iniziare quando mi hanno chiuso in casa e quando ho iniziato a vedere la gente che stava male intorno a me ho capito bene col cuore cosa stava succedendo e questa è una cosa molto importante non solo a livello personale ma anche a livello dell'umanità intera perché anche l'umanità sembra comportarsi come un singolo organismo che segue più l'istinto che la ragione la ragione è la scienza e l'istinto sono gli interessi concreti, economici, sociali ma comunque poco ragionati c'è questo paragone proprio tra la singola persona e l'umanità intera che è abbastanza interessante a livello personale non so come si possa far prevalere la ragione sull'istinto non siamo programmati per questo quindi forse non è questo il modo in cui affrontare la questione a livello personale però a livello di istituzioni si può far qualcosa e la scienza io spero avrà un ruolo maggiore nella questione dei cambiamenti climatici e sarà sempre più ascoltata però sappiamo che finora non è stato così questa faccenda di adesso del coronavirus può lasciare una traccia e insegnarci molto è abbastanza significativo e ne dovremmo far tesoro per quello che penso grazie sì la speranza forse che tutte le morti per i cambiamenti climatici che ci sono state fino adesso si pensi al cambiamento della temperatura adesso con il fatto con la presenza di questo virus che in qualche modo abbinata ai cambiamenti climatici ha provocato altre morti può in qualche modo accendere un'attenzione in più chiaro è che bisogna sempre dire che siamo all'interno di un sistema molto complesso e quindi poi dopo bisogna capire bene quali tempi e quali modi però le speranze sono buone e invece proprio come giovani scienziati che fate tante conferenze quali sono i vostri prossimi progetti? so che le avete ovviamente anche voi interrotte come pensate di organizzarvi? allora avevamo in ballo principalmente un ciclo di conferenze adesso in primavera è saltato tutto, erano quattro conferenze e le abbiamo rimandate in blocco all'autunno e in cambio di questo stiamo provando a fare dei video con i relatori di queste conferenze in cui anticipano qualcosa di ciò di cui ci parleranno in autunno e poi ci sono altri progetti che stiamo seguendo e che possiamo anche fare da casa di ricerca, informazione personale e pubblicazione di nuove notizie e l'ho fatto attraverso Facebook? sì, su Facebook tempo zero perfetto e invece come cittadini per l'aria la campagna di raccolta dati quando è che verrà pubblicata? allora qui abbiamo avuto qualche problema perché purtroppo la nostra campagna almeno in Lombardia perché a Napoli allora la nostra campagna in Lombardia è coincisa completamente con lo shutdown quindi diciamo che il nostro dato risentirà molto del decremento degli inquinanti però sarà anche allo stesso tempo occasione di studio da parte del nostro comitato scientifico e di analisi del risultato è stato molto complicato in tutte le tre città Milano, Roma e Napoli in cui i cittadini stavano raccogliendo il biossido di azoto restituire i campionatori passivi perché molto spesso le persone si sono trovate o impossibilitate perché erano via a recuperare i campionatori e quindi abbiamo fra virgolette perso una certa quantità di campionatori comunque abbiamo spedito la scorsa settimana oltre 1200 campionatori in Inghilterra in realtà il laboratorio in questo momento ha chiuso a sua volta la sua operatività però ci hanno garantito che riusciranno a restituirci i dati quindi per fortuna perché abbiamo avuto un momento di panico però diciamo che si allungheranno i tempi perché a questo punto sarà probabilmente non maggio ma più avanti però comunque sia sì anche noi come tempi e poi quello che scusa Maria Angela quello che volevo aggiungere è che stiamo veramente cercando di ragionare su come invitare e come riuscire a incidere su quello che succederà dopo al momento della ripresa perché è evidente che oggi come oggi questa riduzione delle emissioni viene ricollegata a una situazione tragica ma non necessariamente deve essere così e quindi anzi bisognerebbe riuscire e qui invoco l'aiuto di tutti a creare un movimento che facesse sì che la riduzione delle emissioni fosse ricollegabile a un'azione volontaria e non necessitata e quasi, non dico del tutto ma insomma quasi altrettanto efficace perché allo stesso tempo ci accorgiamo tutti di quanto sono più belle le nostre città con l'aria pulita con meno macchine in giro anzi quasi nessuna e quanto in fondo questa potenzialità di trasformazione del cambiamento delle città è qualche cosa che tutto sommato è abbastanza a portata di mano basta veramente mettere in atto delle politiche che in particolare nelle aree urbane dove c'è la possibilità di muoversi a piedi in bici con i mezzi pubblici quando sarà safe quando sarà sicuro farlo davvero possiamo dobbiamo poter incidere ricordiamoci che l'anno prossimo si vota per il nuovo sindaco io scusate se faccio continuamente appelli al voto ma qui il problema è che abbiamo un livello di ambizione da parte dei nostri amministratori che è assolutamente insufficiente e quindi dobbiamo riuscire a mettere il tema dell'ambiente al centro delle nostre politiche sia a livello nazionale ma anche a livello locale e quindi pretendere di avere candidati e come dire programmi politici che trasformino per esempio la mobilità a Milano sono perfettamente d'accordo infatti anche come Tempio del Futuro Perduto avevamo l'intenzione di partecipare alla campagna ma purtroppo non siamo riusciti a consegnare il campionatore sarebbe stato molto interessante perché Via Luigi Nono è molto trafficata e vederla così vuota adesso è veramente uno shock molto grande come sapete noi stiamo portando avanti una battaglia di nome sul fatto che noi vogliamo che spazi rigenerati come il nostro vengano classificati come bene comune e sappiamo certamente che aria e salute sono altrettanti beni comuni quindi noi sicuramente siamo accanto in questa battaglia di salute prima di tutto e di ambiente bisogna trasformare il grande piazzale della fabbrica del vapore in un grande parco tanto per cominciare a togliere il cemento e mettere piante perché il comune ha fatto queste provvedimenti sulla decementificazione il primo posto da decementificare sarebbe la fabbrica del vapore perché è totalmente assurdo che sia una spianata di cemento che d'estate è 60 gradi dove... vabbè mettiamola lì mettiamola lì come proposta io all'inizio non ho detto che noi ci siamo conosciuti a un evento che abbiamo organizzato al Tempio dal titolo Reagiamo questa è semplicemente una chiacchierata che va in coda a quell'evento quindi io vi ringrazio molto ci avete dato tanti spunti grazie per la vostra disponibilità di tempo e di conoscenze grazie grazie mille a voi grazie a te a Mariangelo e grazie al Tempio ciao a presto ciao ciao ciao